ciao amici sono il generale mark e bentornati di nuovo su europa universalis 4 con europa universali 4 l'ho detto due volte una provincia varia senti se costruisco qua senti lo costruisco qua allora l'anghilterra occupa barroa la droa la francia però me la tengo io comunque vi sta piacendo la campagna cioè io qua ho letteralmente devastato tutto e tutti cosa ma come si faceva la cosa dei favori qua ah si trade favor for trust si eccola mmm ok e si torna qua a saccheggiare app per Bavaria ok 1 e 91 ah peccato il re è morto lunga vita al re scusa quanti favori ho? 25 20 con te sono alleato no però ti allearesti con me eh ma ho un po' troppi scusa eh allora le pido non posso toglierlo la francia no la raga no ma scusa ma quanti favori ho? 32 forse forse lo metto qua è pieno io devo ok 2 e 5 vai qua e unisciti al saccheggio ok allora quanto ho di differenza ok papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap c'è qualcos'altro che posso fare no ah potrei pagare il debito di 400 e non pagare il mio ok saccheggia saccheggia bravo saccheggia re Enrico Sesto di Lancaster patronaggio delle arti avrei 10 di prestigio Kira vai via Kira è il mio gatto se lo state chiedendo ok ok vai qua e saccheggia dai l'ultima cosa e abbiamo fatto allora bene vai qua a Verdun dove tra un 450 anni si combatterà una battaglia molto epica quindi saccheggia e mi senti voi navi andate qua e distruggete queste navette che e così allora a me non mi importa tanto di prendere le cose quanto di quanto di depredare e saccheggiare tutto e tutti allora qua sta perdendo senti posso no c'ho ancora la che finisce qui potrei avere 491 dodocati eh però ok allora si si ok allora britney ha chiesto si non mi importa sai ripaga ok quanto ho ora 5 perché 5 ah si è svuotato qua quanto c'è 12 va prendiamo qua almeno facciamo un po' di punti guerra e mi prendo altri favori quanti c'è qua nessuno favori 26 allora di favori me ne servono quanti retun core allora 90 minceca sto lontano anni luce quindi aspetta un attimo se non sbaglio allora no io ho come rivali la borgogna questa è venezia mi spiace mi spiace perché l'albania è cattolica si si ma c'è gli esti e la fede bibizantina no eh allora tu allora mission setting bold coraggioso scusa eh allora 19 45 02 04 rubek con questa borgognona di allora ok torniamo a parigi anche tu vai a parigi 73% what ah allora supporta i lealisti c'è qua c'è il 71% eh scusa allora supporta i lealisti scusa ora con l'ausia quanti favori ho sempre 27 cavolo allora alleanza di sonorata 15 marzo ah c'ho almeno due fino al un 5 anni già ho di arif senti no senti eh tu un po' di soldini no non i soldati i soldi per 10 favori ok grazie allora eh ah solo ad un mio alleato non a tutti che presa in giro io ho senti se io ripagassi il debito francese allora ogni anno migliora di 16 punti allora stessa religione 6 tolerate eretic influence action allora Ora ho tre favori, quanto stiamo? 13, beh, tra poco lascio per il successivo episodio. Scusate, se io dichiarassi guerra a Venezia, per come... L'Ostria non viene perché è in debito, però mi farebbe passare, perché c'è la Francia. Allora, accesso, ok, perché tu non mi fai passare? Allora, guerra italiana, va, facciamo passare dicembre, così mi migliora un pochino. Ok, no. Allora, questa guerra la vedremo più avanti, quindi, ciao!